Ok, le dinamiche del passato non le conosco, quindi non saprei di cosa parlare. Dalle mani a continuare. Sì, è vero, siamo a discontinuo in questo momento, ma nell'analizzare l'intero periodo e il momento che stiamo vivendo le dico francamente che ciò che ci penalizza di più sono sicuramente i risultati ottenuti in casa, dove non stiamo riuscendo da sette partite, credo, ad ottenere la vittoria in casa davanti ai nostri tifosi ed è secondo me questo che ha generato questo scetticismo, questo malumore, questa rabbia e credo che il motivo per cui oggi, dopo un pareggio a potenza, è chiaro, è arrivato in questo modo, è chiaramente arrivato in questo modo, ci sia così tanta rabbia. Diversamente se avessimo fatto molto, ma molto meglio, nelle gare interne davanti ai nostri tifosi probabilmente questo risultato di oggi, per come è stato raggiunto, sarebbe stato visto comunque in maniera diversa. Il momento globale, il momento che stiamo vivendo è esattamente questo, delle difficoltà sicuramente in casa, che ci portano poi a vivere male anche questo tipo di partite, questo tipo di risultato. Io stavo subito, la partita sembrava quasi in un cassaforte, perché nel sembrava praticamente tutta la nostra parte, poi ultimi dieci minuti, confusione totale, hanno collegato posizioni anche con ingerità clamorose, e abbiamo perso un po' il bandone della matazza per la natura del pareggio. Cosa è successo nel finale con una squadra che sarebbe benissimo un po' se stesse maturato in questo momento? Sì, se entriamo ora nell'analisi della gara, sicuramente nel primo tempo non una buonissima gara, anche se eravamo partiti con un'occasione di Ricciardi, e poi dopo quattro minuti abbiamo preso un gol che si poteva evitare, e purtroppo da questo punto di vista siamo ricascati ancora nell'errore. Poi la squadra ha provato a reagire, sinceramente con poche idee, trovando pochi spazi, ed è il motivo per cui ho provato a cambiare qualcosa nel secondo tempo, dove i ragazzi si sono disimpegnati in maniera diversa, sicuramente trovando trame di gioco diverse, trovando più spazi, trovando più situazioni pericolose. Da queste su due siamo riusciti ad arrivare al gol, ribaltando la gara. Negli ultimi 5-10 minuti di cui lei parlava prima, io credo che sia stato più un calo fisiologico, un calo fisico, perché si sono ritrovati a rincorrere dopo quattro minuti una partita che si è messa subito in salita, e quindi da questo punto di vista abbiamo speso tantissimo a livello fisico e a livello mentale. Però anche sul 2-1, se andiamo a rivedere la squadra, i ragazzi hanno riprovato anche a chiuderla in una circostanza con Pezzella, D'Ausilio e Patierno. Sono stati poco lucidi, poco cattivi, dove potevano chiuderla, e magari oggi, ora staremmo parlando di un risultato diverso. Sulle punizioni regalate, qualcuno, sicuramente do la responsabilità ai miei giocatori, qualcuno si poteva anche non dare, si poteva anche non dare, questo non è la prima volta che succede. Queste punizioni ci vedono poi penalizzate, perché alla fine io credo che sarete d'accordo con me, che per quanto ho visto nell'arco dei 95 minuti, questi ragazzi oggi mi invitavano sicuramente un risultato diverso. Mister, com'è si gestisce questo momento? Perché bisognerà conciliare la necessità di lavorare, e di lavorare tanto, immagino lei punti sul lavoro, perché è sempre stata la cura, quella che lei ci ha sempre detto e dettato, e dall'altro lato gestire invece un ambiente che oggi vede dei colpevoli, e li ha indicati questa sera, ha indicato Mister Pazienza, che ancora una volta è stato appellato col termine presuntuoso, e le chiedo anche come ha gestito, immagino a livello umurale, non bene questo termine presuntuoso in questi giorni, e lo vede anche nell'area tecnica, nel direttore Perinetti, nel direttore sportivo Condò, che questa sera sono stati bersagliati quanto e come lei. Come si gestisce, come si concilia questo momento? Beh, una soluzione è quella che lei ha appena detto, attraverso sicuramente il lavoro, e l'altro è attraverso i risultati. Purtroppo l'unica cosa che può riconciliarci con i nostri tifosi sono i risultati, soprattutto in casa, perché è da troppo tempo che non si arriva a gioire davanti a loro, e questo ci vede panelizzati, e questo ha creato tutto ciò di cui ora stiamo parlando. Per quanto riguarda l'attacco alla mia persona, nei termini della parola presuntuoso, non so darle una risposta, una motivazione, però a me piace pensare che a volte, non so se a voi è capitato, l'ho già detto anche prima, quando si viene feriti, si litiga, si discute, si dicono a volte delle cose che magari poi col tempo non si pensano veramente. E a me piace pensare che sia così, perché poi se non riesce ad ottenere una vittoria su sette partite in casa, la ferita è profonda, e questa ferita può portare rabbia e può far dire delle cose che magari poi in un altro momento non si pensano per davvero e ce ne si rende conto dopo. Però nei momenti dell'ira a me è capitato anche di discutere, ho detto delle cose di non pensare poi veramente e quindi la voglio immaginare così. No, volevo solamente chiedere rispetto anche alle dichiarazioni che abbiamo ascoltato del direttore Perinetti che le ha confermato la piena fiducia, però lunedì c'è verbi con la casertana, poi già ce l'eravamo detto, io vi chiedo, si sente in discussione, sente la sua panchina in vinico e decisiva la sfida della casertana in questa direzione. Ora il mio primo pensiero deve essere preparare al meglio quella di lunedì, come è sempre fatto. Poi è chiaro che quando non arrivano i risultati sperati, ma questo vale sempre. Quando si arriva ad Avellino in una piazza così importante, così calda, è chiaro che uno gioca per un risultato solo e quando questo non lo raggiungi le possibilità e la voglia che poi navichi questo pensiero c'è sempre, ma fa parte del lavoro. Quando decidiamo, parlo ora della categoria, non solo di me, quando decidiamo di fare questo lavoro sappiamo a cosa andiamo incontro, quando decidiamo di andare a lavorare in una piazza come Avellino sappiamo a cosa andiamo incontro. L'unica cosa che vi posso dire è che ci metteremo a lavorare nel miglior modo possibile per cercare lunedì di tirare fuori una prestazione che possa soddisfare l'ambiente. Un'ultima domanda. Le riferisco a quello che ha detto Avellino. Se non facciamo più un blocco unico riferito all'ambiente, se non facciamo? Un blocco unico, riferito anche alla compattezza con i difusi che oggi si è praticamente lacerata con quella contestazione durissima a fine capo non so se lei ha sentito e assistito anche quello che è successo con l'abbastaggio dei calciatori significa aver mandato quasi all'area un'intera stagione. Credo che insomma il problema in questo momento è questo questa profonda spaccatura tra la tifoseria e la squadra. Come si riconvone? Perché al di là delle sue parole ora stiamo parlando di un problema con un certo di poco conto. Questa spaccatura di cui lei parla si avvicina molto a quello che ho detto prima in questo momento c'è tanta rabbia c'è tanta rabbia si dicono tante cose ma l'unico modo per riconciliare il rapporto per ristabilire il rapporto e essere uniti e compatti e lavorare è cercare il risultato il risultato in casa e poi se andiamo a vedere i risultati in casa sono quelli che ci stanno mancando al di là ora che stasera si è pareggiato e si è arrivato in un pareggio in maniera così ingenua però quello che ci sta penalizzando è il lavoro fatto in casa e su quello dobbiamo lavorare ancora di più dando quel qualcosa in più che ci possa portare a raggiungere il risultato e poi attraverso il risultato viene naturale il riavvicinarsi ai propri tifosi alla propria gente e attraverso il risultato possiamo poi diventare un blocco unico grazie